liceia quivi assede la volontà che non muore chi può dire di conoscere i misteri della volontà e della sua forza dal momento che dio è solo una grande volontà che riempie ogni cosa secondo le sue intenzioni l'uomo non cede agli angeli né interamente alla morte se non a causa della fiacchezza della sua minuscola volontà joseph glenville non sono capace sull'anima mia di rammentare come quando e fino anche dove io ho incontrata per la prima volta l'ediligeia molti anni sono trascorsi da allora e le molte mie sofferenze mi hanno fiaccata la memoria ovvero è soltanto ora che io non posso rievocare alla mente quegli istanti da che per la verità l'indole della mia amata la sua eccezionale dottrina il carattere singolarmente calmo della sua bellezza la profonda eloquenza studiosa dei segreti centri dell'emozione del suo linguaggio sottilmente musicale conquistarono il mio cuore così furtivamente insieme così tenacemente che io non potevo accorgermene e di fatto non me ne accorsi che molto tempo dopo io credo tuttavia ad aver fatta la sua prima conoscenza ed averla rivista spesso di poi in una grande antica città che cadeva in rovina sulle sponde del reno e non c'era dubbio che io l'abbia udita parlare dei suoi antenati così come anche è indubitabile che si risalissero a un'epoca alquanto remota l'izeia l'izeia seppellito come io sono nello studio di discipline atte e quant'altre mai ad attenuare e svisare le impressioni provenienti dal mondo esterno ma è sufficiente appena pronunciare quella dolce parola l'izeia perché io rappresenti improvvisa agli occhi della fantasia l'immagine di lei che non è più ed ora nel mentre che io vergo queste parole ora soltanto ma vedo che non ho mai saputo il nome della famiglia di lei di lei che fu mia amica e promessa di lei che divenne compagna dei miei studi e sposa infine del mio cuore forse solo un capriccio bizzarro ovvero il desiderio di mettere alla prova l'amor mio suggerì alizeia di proibirmi qualsiasi indagine su questo punto o piuttosto il capriccio fu mio fu un'offerta romanticamente disperata sull'altare della più appassionata devozione a questo proposito non posseggo altro che ricordi confusi né quindi è da meravigliare che abbia dimenticato le circostanze che determinarono prima e accompagnarono poi questi avvenimenti così che io sono indotto a credere che se mai lo spirito romantico il pallido astofet dall'ali nebbiose venerato nell'egitto idolatra presiedette come costume credere ai matrimoni nati sotto l'influenza ad una stella maligna egli ha presieduto non ve dubbio al mio e non di meno va un caro soggetto sul quale la mia memoria non può fallire ed è la persona di ligeia essa era alta snella e negli ultimi giorni anche un po emaciata invano io tenterei di ritrarre la maestà la tranquilla naturalezza dei suoi modi la misteriosa elasticità e leggerezza del suo incedere andava e veniva come un'ombra io non m'accorgevo del suo ingresso nel mio studio altro che dalla musica intima e dolce della sua voce e dal contatto sulla mia spalla della sua marmore a mano io non ho mai visto un volto di giovane donna che le guagliasse in bellezza essa sembrava irraggiare da un sogno piaceo come un'area visione altamente spirituale una visione assai più stranamente celestiale che non quelle dei sogni che volteggiano nelle anime sopite delle fanciulle di delos e non di meno i suoi lineamenti non erano plasmati secondo quel modello regolare che ci è stato ipocritamente appreso a venerare nelle classiche opere dei pagani non può esistere una bellezza squisita dice bacon lord verulam discorrendo con molta acutezza di tutte le forme e di tutti i tipi di belle donne che sia sproveduta ad una cotale stravaganza nelle proporzioni quantunque io non mi nascondessi che i lineamenti di risaia non erano propriamente di una classica regolarità sebbene io avvertissi che la sua bellezza era veramente squisita e che la stravaganza vi aveva non poca parte ho poi sempre pensato a rintracciare quella irregolarità e ad individuare le mie stesse capacità di percepire lo stravagante io esaminavo così il contorno della fronte alta e pallida esso era veramente perfetto ma quanto è fredda tale espressione come si riferisce a tanta divina maestà io esaminavo il suo incarnato rivale dell'avorio più puro e la imponente ampiezza e calma la leggiadra prominenza delle parti al di sopra delle tempie e poi la capellatura d'un nero corvino lustra abbondante naturalmente ondulata la quale testimoniava tutta la forza e la grandezza dell'espressione omerica jacinte chiomba io riguardavo il delicato profilo del naso e non riuscivo a rammentare un simile esempio di perfezione altro che nel garbo dei medaglioni ebrei era la medesima squisita tenerezza della superficie la medesima impercettibile tendenza all'aquilino la medesima curva armoniosa delle narici che denota la libertà dello spirito io riguardavo la sua dolce bocca là dove era il reale trionfo di tutte le cose celestiali armonioso incurvarsi del labbro superiore piccoletto il soffice e voluoso riposo di quello inferiore il gioco ai lati delle fossette e dell'ospirante colore i denti che rimandavano ogni raggio della luce benedetta che incontravano nei loro sorrisi tranquilli e sereni ma pur sempre trionfalmente radiosi io osservavo la conformazione del mento ed ancor lì trovavo la grazia e la leggiadria la dolcezza e la maestà la pienezza e la spiritualità degli antichi modelli greci quel contorno che il divo Apollo rivelò a Cleomene sognante a Cleomene figlio dell'Ateniese e poi io mi perdevo nei grandi occhi di Liseia per quegli occhi non va modello alcuno che basti a darne l'immagine pur nelle più remote età ed è probabile che proprio negli occhi della mia adorata ci celasse il mistero di cui dice lord Verulam essi erano come conviene che io creda assai più grandi che non gli occhi comuni della nostra razza ed essi erano anche più pieni dei più leggiadri occhi di gazzella che abiti la tribù nella vallata di nurjad e tuttavia soltanto in alcuni istanti quando essa sembrava animarsi più intensamente tale particolarità si poteva notare in liceia la sua bellezza in tali momenti era ovvero appariva alla mia accesa immaginazione la bellezza ad un essere superiore o comunque superumano la fiabesca bellezza delle ori turche il nero più fondo e lucido le brillava nelle pupille difese da lunghissime cilia ricurve nere ancoresse e sopracciglia nere erano caratterizzate da un disegno lievemente irregolare e tuttavia la stravaganza ch'io riconoscevo a quegli occhi non dipendeva in nulla dalla loro forma o dal loro colore ovvero dalla loro vivacità essa era piuttosto da attribuirsi alla loro espressione parole ai me senza significato dietro cui si difende dietro la loro ampiezza di mero evacuo suono la nostra ignoranza delle cose dello spirito l'espressione degli occhi di liceia quanto non mi ha fatto meditare quante volte durante intere notti estive io non mi sono in vano sforzato di penetrarne il senso che cosa dunque poteva essere questo alcunché assai più fondo che non il pozzo di democrito vivido giacente in fondo alle pupille della mia adorata che cos'era io ero posseduto dalla passione di scoprirlo quegli occhi quelle larghe quelle lustre quelle divine pupille esse erano divenute per me le stelle gemelle di leda ed io il loro fervente astrologo non verrà certo alcuna fra le innumerevoli anomalie e incomprensibili della psicologia la quale offra un interesse maggiore allo scienziato se non quella che io non credo tuttavia sia mai stata notata nelle scuole per la quale nonostante gli sforzi che noi operiamo per richiamare alla mente un oggetto da lungo tempo obbliato perveniamo sovente al limite del ricordo senza tuttavia riuscire a ricordare e così infinite volte nella mia estenuante analisi degli occhi di ligeia io mi sono trovato al punto di avere disvelato per intero il segreto della loro espressione ho avuto sentore da essere prossimo alla sua conoscenza non ancora mia per poi soltanto vederla di nuovo lontanare e ancora e questo è vero sorpassa in stravaganza tutti gli altri segreti impenetrati io ho trovata negli oggetti più comuni di questo mondo una serie di analogie con quella espressione voglio dire che posteriormente al periodo nel quale la bellezza di ligeia fu trasfusa nel mio spirito e vebbe dimora come in un reliquiario io attinsi presso numerosi esseri del mondo materiale un sentimento in tutto simile a quello che io nutrivo in me vicino alle grandi e lustre pupille e però non mi sento meno incapace di definire quel sentimento d'analizzarlo ovvero anche di afferrarlo per intero ma accadeva talvolta di riconoscerlo alla vista di un rampicante rigoglioso a quella di una falena o di una farfalla o di una crisalide ovvero a quella di un corso d'acqua corrente e l'ho sentito alla vista dell'oceano e a quella di una meteora precipite l'ho avvertito nello sguardo di persone insolitamente longeve e vi sono ancora nel firmamento due o tre astri e più particolarmente uno di sesta grandezza duplice e mutevole che si trova accosto alla grande stella della lira i quali contemplati attraverso il telescopio mi hanno ispirato quel sentimento e ne fui anche invaso dal suono di alcuni strumenti a corda e frequentemente da taluni passaggi dei poeti e dei prosatori da me preferiti ricordo tra gli innumeri esempi alcune frasi di un volume di Joseph Glenville le quali forse solo a motivo della loro bizzarria chi può dirlo non ha mai mancato di ispirarmelo qui vi assede la volontà che non muore chi può dire di conoscere i misteri della volontà e della sua forza dal momento che Dio è solo una grande volontà che riempie ogni cosa secondo le sue intenzioni l'uomo non cede agli angeli né interamente alla morte se non a causa della fiacchezza della sua minuscola volontà la riflessione non di meno e gli anni mi hanno avviato ad intracciare un nesso per quanto è scogitato fra quel passaggio del filosofo inglese e una zona del carattere di Ligeia una singolare intensità dei pensieri delle azioni e delle parole era il risultato in lei o almeno l'indizio di quella potentissima volontà la quale durante le nostre prolungate relazioni non fornì tuttavia altre più positive attestazioni della sua esistenza fra tutte le donne da me conosciute Ligeia sempre serena e apparentemente calma fu la più tormentata dai violenti e tumultuanti avvoltoi della crudele passione e quella passione io non potevo misurarla altro che alla miracolosa espressione di quegli occhi che mi smagavano e a un tempo mi atterrivano alla melodia incantatrice alla modulazione alla limpidità alla serenità della sua voce profonda alla energica fierezza cui il contrasto che metteva nel porzerle raddoppiava l'effetto delle stranissime parole di cui conosceva il segreto ho detto della sapienza di Ligeia e sarà immensa tale che io non ne ho mai riconosciuta la simile in una donna delle lingue morte ella aveva una conoscenza profonda e scaltrita e per ciò che riguardava le lingue vive d'Europa delle quali io pure avevo una vasta conoscenza dirò che non mi è mai accaduto di poterla cogliere in fallo ma infine o forse io mai colta in fallo Ligeia a proposito di uno qualsiasi degli argomenti di quella accademica e va una gloriosa erudizione tanto esaltata perché ritenuta la più astrusa e non parrà inoltre singolare che tale caratteristica dell'indole della mia donna attraesse la mia attenzione soltanto nell'ultimo periodo della mia vita con lei ho detto che la sua sapienza era tale che io non ne ho mai riconosciuta l'eguale in nessun'altra donna ma dove respira quel uomo che abbia percorso con successo totale i campi interminati delle scienze morali fisiche e matematiche in quel tempo io non mi rendevo conto di quello che io vedo ora chiaramente e cioè che il campo delle conoscenze di Ligeia era vastissimo al di sopra d'ogni immaginazione io così a parte della sua infinita superiorità rassegnavo nelle sue mani la mia fiducia di bimbo e mi lasciavo condurre da lei attraverso il caos delle metafisiche investigazioni che attorno ad esse ho attivamente spesi i primi anni del nostro matrimonio e con tale trionfo con tale viva delizia e perpetua speranza avvertivo mentre ella reclinava su me che ero immerso in studi tanto eccezionali ingrandirsi ed espandersi e moltiplicarsi nella seducente prospettiva sulle cui interminabili meravigliose e vergini strade io sarei infine pervenuto alla meta di una conoscenza preziosa e divina troppo per non essere proibita e quale e quanto fu il mio dolore allora che vidi soltanto qualche anno appresso tutte quelle mie fondate speranze prendere il volo e fuggirsene tolta che mi fu l'Igeia io rimasi un bimbo cieco che tenta l'oscurità la sua presenza soltanto e il suo ammaestramento potevano rischiarare di vivido lume i trascendenti misteri nei quali eravamo sommersi orbata dall'irraggiante luce del suo occhio la scienza un tempo librata a volo ricadde pesante come il piombo di saturno il suo sguardo rischiarò sempre più rade le pagine su cui mi chinavo poiché l'Igeia cadde malata i suoi occhi folgorarono una troppo abbagliante luce in vero troppo abbagliante le palli di dita presero la trasparenza cerca della tomba e le vene azzurre della sua fronte solenne palpitarono impetuose rapite di dolcezza e d'apprensione ma vidi così che essa doveva morire e lottai disperato nell'animo mio contro il cupo Azrael e i suoi sforzi d'appassionata sposa furono con mia meraviglia anche più disperati dei miei per la gravità della sua indole io pensavo che la morte l'avrebbe colta senza il suo corteggio di terrori eppure non fu così le parole sono impotenti a descrivere la fierezza della resistenza che la dispiegò nella sua lotta con l'ombra io gemevo angosciato al pietoso spettacolo avrei voluto calmarla e ragionare seco lei ma nell'intensità del suo sfrenato anelito alla vita a null'altro che alla vita ogni razzocinante intervento per consolarla appare al culmine della follia e tuttavia per puro frammezzo alle torture e alle convulsioni del suo spirito altero la tranquillità esteriore dei suoi modi non l'abbandono mai la sua voce man mano cresceva di dolcezza e di risonanza ed io non di meno non potevo intrattenermi sul senso di quelle sue orribili e calme parole e mentre che io ascoltavo mi cresceva una bruma nel cervello frutto quasi dell'estasi per quella sovrumana melodia per quelle ambizioni e aspirazioni che il mondo doveva fino allora ignorare non potevo dubitare che la mamasse e ancora che in un seno come quello di lei l'amore non potesse regnare come sentimento comune eppure acquistai conoscenza dell'impetuosa forza di quello soltanto nella circostanza della sua morte e la sfogava durante lunghe ore con le mani nelle mie mani la piena d'un cuore la cui devota passione suggeriva l'idolatria che cosa m'aveva meritate le beatitudini di tali confessioni e che cosa ancora la maledizione che io vedessi la mia adorata scomparire al momento stesso in cui me le porgeva ma io non tollero di indugiare su questo punto dirò soltanto che nell'abbandono più che femminio di liseia a un amore che io forse non meritavo senza motivo prodigato riconobbi infine l'intima essenza del suo ardente del suo selvaggio rimpianto della vita che la fuggiva ormai con tanta rapidità e tale ardore selvaggio tale veemente struggimento di vita e soltanto di vita che io non so esprimere le parole si dibattono incapaci nel mio cervello a mezzo della notte nella quale ella porse l'ultimo respiro mi richiamò imperiosamente al suo capezzale e volle che io ripetessi alcune strofe da lei composte qualche giorno innanzi obbedì erano queste è una notte di festa gli intristiti e desolati ultimi anni arato uno stuolo di angeli piangenti da veli avvolti in un teatro assiste a un dramma di speranze e di timori nel mentre che l'orchestra ne sospira la musica incantata delle sfere nel sembiante di dio nei cieli i mimi qua e là trasvolano brontolando rocchi e vanno e vengono come burattini al comando di tremoli fantasmi che vari da torno per canzar la scena versando dalle loro immense ali di condor l'invisibile dolore quel vario pinto dramma siate certi scordato non sarà col suo fantasma inseguito per sempre da una folla che non l'aggiunge mai movendo in cerchio e sempre torna nello stesso luogo con la molta follia con il peccato ed il terror che è il fulcro dell'intreccio ed ora attenti che tra i mimi in calca una strisciante forma ecco si intrude è rossa come il sangue e si contorce mentre esce sulla scena desolata si torce si contorce in un'angoscia mortale i mimi cadono in sua preda piangono i serafini che le zanne attossicate del serpente han viste d'umano sangue rosse e scintillanti spente sono le luci tutte spente e sopra quelle abbrividenti forme ecco il velario funebre lenzuolo precipita un rombo di tempesta gli angeli tutti pallidi allibiti si levano svelandosi affermando che la tragedia è intitolata l'uomo e che il suo eroe è il serpente vittorioso oddio urlo quasi l'igeia balzando dal letto e levando le braccia al cielo in un movimento di spasimo non appena ebbe terminato di recitare quelle strofe oddio o padre celeste ciò si deve compiere senza remissione il serpente vittorioso non sarà mai dunque vinto a sua volta non formiamo noi forse una parte integrante di te chi è chi è che sa i segreti e la potenza della volontà l'uomo non cede agli angeli né interamente alla morte se non a causa della fiacchezza della sua minuscola volontà e allora spossata da quella nuova eccitazione e l'abbandonò le bianche braccia e solennemente fece ritorno al suo letto di morte e nel mentre gli ultimi spiriti le passavano il labbro io udì mescolarsi loro un rumore indistinto tesi allora sottilmente intento l'orecchio e udì ancora una volta le parole di Glenville l'uomo non cede agli angeli né interamente alla morte se non a causa della fiacchezza della sua minuscola volontà essa era morta ed io devastato dal dolore non potei più a lungo sopportare l'abbandono e la desolazione della mia dimora in quell'antica città che cadeva in rovina sulle sponde del reno io non avevo bisogno di ciò che al mondo ha nome di ricchezza e l'Igeia me ne aveva portata molta maggiore che non solitamente il destino accorda ai mortali in tale modo dopo che fu scorso alcun mese di noiate vagabondaggi e peregrinazioni senza meta entrai in possesso e restaurai un'antica abbazia nella quale non di meno tacerò il nome ed il sito che sorgeva in una delle più incolte e abbandonate regioni della bella albione la cupa e malinconica vastità dell'edificio il selvaggio aspetto del suo fondo all'intorno le venerabili e tristi memorie che erano legate al luogo tutto insomma parve accordarsi al sentimento di completo abbandono che mi aveva condotto in quella remota e disabitata regione e non di meno pur serbando al di fuori dell'abbazia il suo primitivo carattere e il cupo e desolato verde che la tornava io mi studiai con una perversione quasi fanciullesca e forse anche col proposito di alleviare la mia pena di spiegare all'interno una magnificenza più che regale avevo alimentato per la verità il gusto di simili pazzie fin dall'infanzia ma soltanto ora esseri nascevano in me sorpreso nell'innocente meraviglia del dolore io sento troppo bene in me che sarebbe stato possibile di scoprire infatti un principio di follia nello splendore di quei fantagioli cortinaggi nella maestà delle sculture egizie nelle cornici e nei mobili in vero assai stravaganti e soprattutto negli arabeschi dei tappeti tra punti d'oro ero divenuto schiavo dell'oppio che mi teneva incatenato ai suoi ordini e tutti i miei lavori e le mie commissioni assumevano il colore dei miei sogni ma non inducerò ad escrivere nei minimi particolari tali assurdità mi fermerò soltanto su quella camera maledetta nell'eternità nella quale in un istante di smarrimento della ragione dopo l'indimenticabile indimenticata religieia io condussi sposa Lady Rowena Trovene of Tremaine dalla bionda chioma e dagli occhi azzurri non v'è particolare architettonico o decorativo di quella camera nuziale che io non abbia presente agli occhi della memoria che cosa poteva aver mai al posto del cuore la terra famiglia della sposa allorché spinta dalla sete dell'oro accettò che una fanciulla tanto teneramente amata oltrepassasse la soglia ad una stanza tanto stranamente costrutta e adorna ho già detto che ne rammentavo i particolari più minuti sebbene io perda spesso la memoria anche a proposito d'argomenti della massima importanza e non di meno in quella fantaciore ricchezza non vera alcun ordine prestabilito ovvero alcun sistema che guidasse e potesse imporsi alle facoltà della memoria la stanza era molto grande ed era tagliata secondo una forma di pentagono essa era relegata nell'alta torre ed una estrema ala dell'abazia e fortificata come uno spalto tutto il lato meridionale del pentagono era occupato da un'unica finestra un immenso cristallo veneziano fuso in un unico pezzo ed un color grigio simile a quello del piombo il quale filtrava i raggi del sole e della luna in modo tale che inondassero gli oggetti della stanza di lugubri riflessi al di sopra dell'enorme finestra una vecchia vita fuoriusciva in un intricato filuppo dall'esterno delle mura della torre per finire ad arrampicarsi all'interno il soffitto di quersa era ad un lugubre color nero ed altissimo costruito a volta e bizzarramente rabescato in uno stile gotico per metà e druidico per l'altra dal centro della volta appendeva a mezzo di un'auria catena di larghi anelli un enorme incensiere aureo anch'esso e capricciosamente traforato secondo un disegno di stile saraceno entro il quale s'attorcigliava il vivo serpe di una perpetua fiamma iridata divani e candelabri d'oro di foggia orientale erano sparsi qua e là e al centro il letto un letto nuziale in stile indiano basso devono massiccio ornato di sculture e sormontato da un baldacchino simile a un pallio funebre sarcofaghi di granito nero si levavano giganteschi agli angoli della stanza essi provenivano dalle tombe dei re di Luxor e i loro antichi coperchi erano istoriati di immemorabili leggende e non di meno la maggior libertà di fantasia era spiegata ai me nei cortinaggi che pendevano torno a torno alle pareti queste oltre ogni proporzione alte erano rivestite dall'alto in basso dalle ampie pieghe di una pesante tappezzeria del disegno medesimo di quella che fungeva sul pavimento da tappeto e sul divano e sul letto da coperta e ancora da baldacchino e si torceva nelle tende alla finestra ricchissimamente tessuta in oro e secondo regolari intervalli spezzata da rabeschi ed un piede all'incirca di diametro ognuno i quali tracciati in nero spiccavano sinistramente sull'aureo sfondo e quelle figure non di meno si riconoscevano per arabeschi solo se guardati da un angolo particolare a mezzo ad un processo divenuto ormai del tutto banale e di cui si trovano le tracce nelle antichità più remote quegli arabeschi erano in guisa tracciati che mutassero a vista d'aspetto essi così a chi entrava nella camera parevano semplici figure di mostri ma avanzando quella caratteristica si trasformava man mano e cambiando posizione nella stanza si poteva vedere attorno una ininterrotta processione di quelle terrificanti immagini la cui invenzione risale alle superstizioni dei normanni ovvero ai sogni irriverenti delle comunità monastiche questo effetto era notevolmente accresciuto da una forte corrente d'aria introdotta per artificio dietro alla stoffa da quale conferiva a quel popolo di forme stravaganti una paurosa e inquietante animazione tale la dimora e tale la camera nuziale dove io trascorsi le lunghe ore del primo mese di matrimonio con la signora Tremein ed in vero esse non furono senza una cotale serenità non che io nascondessi a me stesso come mia moglie avesse in soggezione il mio terribile umore ovvero come essa studiasse onde evitare di scontrarsi meco e insomma non m'amasse ciò m'era causa anzi un segreto piacere perché io la odiavo ed un odio degno dell'inferno più che di questo basso mondo e con quanta insieme intensità di dolore io tornavo di continuo con la mente a l'izeia l'idolatra l'angusta la bella la sepolta e mi saltavo al ricordo della sua purezza della sua scienza della sua eterea natura e il suo appassionato amore ed ora nell'animo mio ardevo una fiamma più libera e intensa di quanto non fosse stata la sua durante i miei sogni eccitati ero abitualmente sotto l'impero dell'oppio io mi chiamavo attraverso i desolati silenzi notturni il suo nome ad alta voce e nella luce diurna negli oscuri recessi della regione d'ombra che attorniava il castello la invocavo ancora quasi che la potessi resuscitare ai sentieri che l'aveva relitti col mio sfrenato desiderio con la mia riverente passione con la divorante fiamma della mia infinita nostalgia appena al principio del nostro secondo mese di matrimonio la diruwena fu posseduta da un improvviso male del quale non poteria versi che assai gradatamente la febbre assediava le sue notti e nel turbamento del dormiveglia essa discorreva di echi e di movimenti che avvenivano in questo e in quel luogo della stanza i quali ho conclusi che ad altro non erano da attribuirsi se non all'eccitamento della sua fantasia o forse anche ai fantasmi che pendevano dalle pareti essa entrò quindi in convalescenza e guarì del tutto e non di meno dopo breve tempo un secondo e ancora più violento attacco la inchiodò nuovamente al suo letto di dolore ed a quel letto per la sua costituzione che era sempre stata fragile non pote più rialzarsi completamente le sue malattie da quell'epoca furono allarmanti e così le sue ricadute che sfidavano la dottrina ed ogni sforzo dei medici e come il male che sarà andato apparentemente impadronendo della sua persona s'aggravava man mano fino al punto che i mezzi degli uomini dovettero lì conoscersi insufficienti a combatterlo io osservai che si accresceva anche l'irritazione nervosa e l'eccitabilità del suo temperamento e così riprese a parlare e sempre più frequentemente di taluni rumori echi leggeri e degli insoliti movimenti dei cortinaggi cui aveva già all'uso durante il suo primo attacco una notte degli ultimi giorni di settembre e l'attirò con maggiore energia che l'usato la mia attenzione su questo soggetto sera destra proprio allora da un sonno inquieto nel mentre che io a metà diviso tra l'ansia e un vago terrore spiavo i movimenti del suo volto scavato io sedevo su uno dei divani indiani accanto al letto d'ebano e la si alzò di sul letto a mezzo il busto e con un ansima antebalbettio parlò di alcuni suoni che aveva uditi ma che io non potevo udire e di alcuni movimenti che aveva veduti ma che io non potevo vedere la sua voce era bassa e grave e il vento correva rapido dietro ai cortinaggi ed io quantunque posso ben confessarlo non credessi compiutamente mi adoperai a dimostrarle che quei sospiri appena articolati quei molli e lenti mutamenti delle figure alle pareti non era anche l'effetto naturale della consueta corrente d'aria e tuttavia il pallore mortale che io vidi in quel punto sbiancarle il viso bastò da farmi comprendere che ogni tentativo per rassicurarla sarebbe stato vano essa era per venir meno ma nessun domestico era nelle immediate vicinanze ricordai allora che in un luogo della stanza era stata riportata una bottiglia di vinello ordinata dai medici e mi vi precipitai a prenderla ma nel mentre che passavo sotto alla luce dell'insensiere la mia attenzione fu distratta da due circostanze straordinarie avevo sentito che un qualche cosa di palpabile anche se invisibile era trascorso leggermente accosto alla mia persona e vidi sul tappeto d'oro in mezzo al riflesso proiettato dall'insensiere un'ombra una debole e indefinita ombra d'angelico aspetto la quale avrebbe potuto più propriamente dirsi un'ombra di un'ombra e non di meno poiché mi conoscevo preda in quel punto d'una dose affatto esagerata doppio non diedi eccessiva importanza a quell'incidente e non ne accennai a Rowena trovato che ebbi il vinello e traversata che ebbi nuovamente la stanza mi accostai un bicchiere alle labbra esangui di mia moglie ella che s'era nel frattempo riavuta aveva preso il bicchiere con le mani per modo che io potei lasciarmi cadere sul divano senza pertanto stornare gli occhi da lei fu in quell'istante che udì ben distinto un leggero struscio di passi sul tappeto vicino al letto e un attimo dopo vidi seppure non ho soltanto sognato di vederlo nel bicchiere che Rowena accostava alle labbra come da un'invisibile sorgiva sospesa a mezz'aria nella stanza cadere tre o quattro gocciole ad un liquido brillante color del rubino ma se io le vidi Rowena non le vide e sapeve senza esitare ed io badai a non accennarle a una circostanza la quale doveva essere dopo tutto soltanto l'effetto ad una troppo accesa fantasia morbosamente riscaldata dai terrori di mia moglie dall'oppio e dall'ora tarda non posso tuttavia nascondere a me stesso che immediatamente dopo la caduta di quelle goccioline di rubino nel bicchiere mia moglie subì un rapido peggioramento al punto che non oltre la terza notte che seguì le mani dei sergi preparavano il suo corpo per il sepolcro e la quarta io vegliavo solo nella fantastica stanza che le aveva accolta sposa la sua salma ravvolta nel sudario strane immagini nate dal sonno piaceo danzavano come ombre dinnanzi alla mia mente io posavo l'occhio inquieto negli angoli della stanza dove vegliavano i sarcofagi sulle forme in moto del cortinaggio e sulla viva serpe della fiamma iridata della lampada ed in seguito come io richiamai alla memoria le circostanze di un'altra notte il mio occhio cadde nel luogo al di sotto del riflesso dell'incensiere dove avevo visto le tracce sbiadite dell'ombra ma l'ombra non c'era più ed io levai gli occhi quasi respirando con maggiore libertà sulla bianca immota figura del letto e allora mille memorie di Lady Ligeia ma follarono la mente e col violento tumulto di una cateratta squarciata affluì al mio cuore la piena dell'ineffabile dolore con il quale avevo contemplata lei ravvolta per sempre nel suo lenzuolo di morte e intanto la notte avanzava e mentre il mio cuore traboccava dei più struggenti e amari pensieri dei quali ella il mio unico e supremo amore era l'oggetto io restavo con lo sguardo affissato al cadavere di Lady Rowena era forse scoccata la mezzanotte un po' prima forse o un po' dopo non avevo posto orecchio al batter dell'ora un singhiozzo in quella basso e lieve ma pur chiaro mi tolse improvviso i miei fantasmi io sentì che soveniva dal letto d'Ebano dove abitava la morte e tesi l'orecchio in preda un'agonia di superstizioso terrore e non di meno il suono non si ripete forse agli occhi a discoprire un moto qualsiasi del cadavere ma non riuscii a veder nulla e tuttavia non era possibile che io fossi caduto in un inganno avevo udito il suono per quanto fosse flebile e in quel mentre l'animo mio era ben desto e così affissai il corpo e vi tanni appuntato l'occhio con risolutezza e perseveranza innanzi che si potesse produrre alcune circostazioni che illuminasse quel mistero trascorsero alcuni minuti e infine apparve evidente che una lieve colorazione era salita alle gote e fluiva appena appena sensibile attraverso le venuzze svuotate delle palpebre preda ad uno spavento indicibile il quale non potrebbe essere per certo rappresentato da alcuna parola conosciuta nell'umano linguaggio sentii che le pulsazioni del mio cuore s'erano arrestate e che le mie membra saranno improvvisamente irrigidite e tuttavia il sentimento del dovere mi restituì un po' di sangue freddo non potevo dubitare più a lungo ormai che i nostri preparativi per la tomba erano stati prematuri e di rowena era ancora viva compresi come fosse necessario tentare subito qualcosa e non di meno la torre era talmente isolata da quella parte dell'abazia che era abitata dai servi che nessuno fra di essi poteva udire il suono della mia voce ed io non potevo chiamarli senza abbandonare per un certo tempo la stanza né a questo sapevo risolvermi e così tentai da solo di richiamare alla vita quell'anima ancora aspirante fu evidente tuttavia dopo brevi istanti una nuova recrudescenza il colore disparve dalle gote e dalle palpebre lasciandovi un biancore più freddo del marmo le labbra si serrarono di nuovo e di nuovo le macelle si strinsero nella morsa spettrale della morte rapido si propagò il gelo vicido e ripugnante su tutta la superficie di quel corpo e subentrò la rigidità cadaverica io mi lasciai cadere rabbrividendo sul divano dal quale ero stato si stranamente rimosso e mi abbandonai ancora a fantasticare appassionatamente di Liseia trascorse un'ora e allo scoccar di quella e come poteva tuttavia essere possibile io ebbi per la seconda volta la percezione che un rumore indistinto venisse dalla parte del letto ascoltai atterrito fin tanto che il suono non si ripete ancora una volta era un sospiro io mi avventai sul cadavere e vidi oh vidi ben chiaramente un tremore alle labbra e un attimo appresso esse si dischiusero e scopersero la chiostra brillante dei denti e così la meraviglia presi a lottare col terrore che aveva fino allora albergato nell'animo mio ed io mi senti annebbiare in un punto la vista e la ragione e soltanto con uno sforzo feroce pervenni a rimettermi all'opera che il dovere imponeva un incarnato debole e limitato ad alcune parti del volto come la fronte le gote e la gola era apparso insieme a un lieve ma pur sensibile tepore ravvivare quella spoglia ed io intesi anche una leggera pulsazione del cuore mia moglie era viva e io soffregai ed umettai le tempie e le mani e subito misi in atto quel che potevano suggerirmi oltre l'esperienza le mie non poche letture di scienza medica ma tutto fu in vano il colore sparve improvviso tacquero le pulsazioni l'espressione di morte salì di nuovo al labbro e per tutto il corpo tornò subito appresso il gelido color livido la ferma rigidità l'aspetto rilassato e come appiattito e tutte insomma le altre caratteristiche di un corpo che abita già da vario tempo il sepolcro e io ripiomai in tal modo a fantasticare di ligeia e di nuovo né potrà stupirsi alcuno che io rabbrividisca nello scriversi di nuovo un singhiotto soffocato venne a colpirmi l'orecchio dalla parte del letto a che scopo tuttavia riferire uno per uno e così minuziosamente gli inconcepibili orrori di quella notte da che indugiare nel racconto particolareggiato di tutte le volte che sin quasi al momento in cui l'alba grisa s'annunciò dietro i poggi lontani non ebbe a ripetersi la spaventosa tragedia di quell'effimera resurrezione e anche riferire come ciascuna terrificante ricaduta servava l'aspetto ad un trapasso più rigido e irrevocabile a che dilungarsi su quelle successive agonie su quelle impari e angosciate competizioni con un invisibile nemico e come la fine di ognuna di esse fosse seguita da una cotale bizzarra alterazione della fisionomia io mi affratto a concludere invece la maggior parte di quella terribile notte era trascorsa allora che lei che era stata morta si mosse nuovamente e questa volta animata ad una maggior vivacità sebbene fosse destra da un disfacimento più orrendo e irreparabile avevo tralasciato ormai da qualche tempo di compiere qualsiasi tentativo e fino qualsiasi movimento restavo così inchiodato al divano pred ad un murinello di feroci emozioni tra le quali credo che la meno terribile quella che meno delle altre cospirava a consumarmi fosse quella appunto d'un supremo terrore il cadavere lo ripeto si mosse con molta più energia che l'usato i colori le risalirono al viso con insolita vivacità le membre si lasciarono andare e ove non fossero state le palpebre pesantemente ostinate abbassate e il sudario che conferiva ancora alla figura un aspetto sepolcrale io avrei sognato che Rowena si fosse liberata del tutto dai ceppi della morte e se tuttavia neppure allora io accolsi quell'idea come veritiera non potei più dubitarne al momento che la si levò dal letto e vacillando a piccoli passi con gli occhi ben chiusi e il portamento di chi sia tuttavia preso in un sogno prese ad avanzare ravvolta nel suo drappo funebre fino al centro della stanza io non tre io non tremmai non fece il minimo movimento nel mentre che una folla di immagini soverchianti l'umano potere dell'espressione intimamente legate all'aspetto alla statura al portamento di quella figura attraversandomi in furia travenian of tremaine dai capelli biondi e dagli occhi azzurri e perché perché io ne dubitavo la funeria benda le serrava ben strette le macelle e come poteva quella bocca non essere la bocca della signora tremaine rediviva e le gote esse serbavano proprio le rose che solevano avere nel tempo che la sua vita era in fiore e se erano di fatto le rose e gote della signora tremaine rediviva il mento e la sua piccola fossetta perché non poteva essere il suo di quando essa era viva ma era dunque diventata più alta nel corso della sua malattia e quale follia che io non riesco ad esprimere non si impadrodì di me a quell'idea io ero già ai suoi piedi come ritraendoli dal mio contatto essa lasciò che il lugubre lenzuolo che la avvolgeva le cadesse dal capo ed ecco nell'aria convulsa della camera io vidi sciogliersi una grande massa di capelli in vivo disordine madidi ed essi erano più neri delle ali di mezzanotte e allora lentamente si aprirono gli occhi della figura che mi stava ritta d'innanzi eccoli dunque infine io urlai come posso sbagliarmi quelli sono gli occhi gli occhi pieni neri selvaggi gli occhi del mio perduto amore di lei di liceia liceia Grazie a tutti. Grazie a tutti.